Quarta Summer School in Zimbeni a Modena. Vogliamo investire come città, vogliamo investire sulla cultura, sulla conoscenza. Vogliamo ricordare una persona straordinaria, un modenese, un europeo, che si è impegnato moltissimo per cercare di far capire come l'Europa deve essere una cittadinanza europea, una forza unica che deve lavorare per costruire pace, progresso e prosperità nel mondo. Un'Europa che fatica a essere tutto questo, che ogni giorno è più divisa e che di fronte alle grandi sfide del mondo si misura con sofferenza. Ora bisogna lavorare tutti per educare ancora di più, per prendere coscienza, per fare cultura e per educare i nostri giovani alla convivenza, alla forza di una comunità europea che deve avere ancora di più la forza di cercare di trovare le condizioni perché dal Medio Oriente a tutto il mondo, non solo perché Expo ci pone un tema profondo della terra, ma anche e soprattutto perché c'è un problema di convivenza dei popoli. I profughi che si stanno muovendo da aree delicate del Nord Africa sono lì perché c'è la guerra, perché ci sono i commerci di petrolio, perché ci sono tanti problemi. L'Occidente ha una responsabilità enorme e noi vogliamo da Modena cercare di stimolare ancora la discussione, far venire a Modena alte personalità del mondo politico e culturale perché abbiamo bisogno di prendere coscienza, di guardare al futuro, di costruire comunità. Ecco, è questo il senso del ricordo di Enzim Beni, è questo la forza, l'impegno che noi vogliamo portare avanti anche nei prossimi anni per la Summer School proprio per educare alla convivenza, alla pace e alla prosperità.